Per la festa della donna, la consulta delle lette ha organizzato l'8 marzo a Torino, in Piazza Castello, l'allestimento dell'albero di Natalia contro il femminicidio, con le bambole fissate ai rami di un albero e le attrici dell'associazione Liberi Pensatori Paul Valery che hanno letto poesie. Il progetto, realizzato insieme alle donne recluse nel carcere delle vallette di Torino, prevede che le bambole siano rivestite dalle detenute e poi distribuite nelle scuole. I festeggiamenti proseguono il 10 e il 12 marzo al Teatro Garibaldi di Settimo e all'Auditorium Marpino di Collegno, con lo spettacolo Spazio Vuoto.